Chi alzerà la coppa più grande di Ballando con le stelle? Wanda con Pasquale o Simona con Samuel? Vai contatore! Prego, prego, prego. E vince! Guarda! Guarda lì! Bellissimo l'abbraccio tra le due regine! Bellissimo! 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 Brave tutte e due! Veramente è un grande scontro! Allora, io prego adesso, prego adesso Simona di salire sul podio! Va benissimo! Complimenti, Simona! Seconda classificata a Ballando con le stelle, premiata da Marcello Cianna Mea, nostro direttore dell'intrattenimento. Ecco la coppa dei secondi classificati! Complimenti! Grazie! Scendete ragazzi, venite qui di lato per un momento. Simona e Samuel, se volete venire a accomodarvi accanto a me per un momento. E adesso, sul podio, Guandanara con Pasquale La Rocca. Complimenti! Complimenti! E il nostro... Complimenti! Grazie a tutti! E ovviamente lo condividiamo con loro perché Simona è una grande amica mia italiana. Grazie a tutti quelli che ci hanno votato, vi voglio bene. Grazie, grazie a Pasquale. Andiamo? Andiamo! Ecco la coppa! È pesantissima! Grazie a tutti! Andiamo! Grazie! Grazie! Vuole dire qualcosa ai due campioni? Tanto congratularmi perché siete stati straordinari. È stata un'avventura meravigliosa. Complimenti, complimenti anche a Simona e a Samuel. Facciamo a tutti, a mille, straordinari. Grazie, grazie. Complimenti a tutti voi che ci avete supportato in questa grande avventura. Abbiamo i nuovi campioni. Signori, viva Ballando! Grazie, grazie! E noi ci diamo l'appuntamento... Quando? Al prossimo anno per la diciannovesima edizione di... Ballando! Gole stelle! La dicianno!